Buongiorno, ciao a tutti. Oggi voglio leggervi una pagina, la pagina 54, tratta dal mio ultimo romanzo Luisa e Fabio, due periferici in contatto edizione AAA. Qui è Fabio che parla mentre scrive in una mail a Luisa. Sono i due protagonisti del romanzo, Fabio e Luisa. Fabio scrive Ammetto che quando ogni tanto di pomeriggio mi capita di fermarmi con i ragazzi a fare due tiri a canestro, mi scordo di aver ormai raggiunto la fatidica soglia dei 50 anni, se non fosse che poi è il mio corpo a ricordarmelo, che resiste poco e fa le bizze. Ma ho ripreso a correre, sai, e ora che ho finito i lavori in casa e ho un po' più di tempo, quasi ogni giorno corro per il sentiero qua dietro, che va verso Premana. Chissà quante volte l'avrai percorso anche tu da piccola. In questi giorni uno spettacolo, cominciano a vedersi le geme sugli alberi, le primole, gli anemoni azzurri tappezzano il sottobosco. È emozionante e sento che ho così tanto da imparare sul bosco. È come se fossi uno straniero in una terra che mi accoglie. Mi lascia girovagare e curiosare, solo tace e mi osserva. Chissà quanti animali mi scrutano nel bosco, non visti, mentre lo attraverso. Anche a scuola vado a piedi, passando per un sentiero tra le baite di Somadino, molte delle quali sono state riattate, ma non sono quasi mai abitate, tranne d'estate o certe domeniche di primavera. E l'emozione che provo è molto simile a quando nei miei viaggi andavo alla scoperta di luoghi mai visti prima, per poi scrivere i miei portage. Anche qui, quando mi addentro nel bosco e anche quando ripercorro tutti i giorni lo stesso sentiero per andare a scuola, provo la stessa emozione, mi sento immerso nel mistero, avverto l'immenso non sapere che mi circonda e mi affascina. Quel sentire di non sapere, quel sentirsi ospite in una terra che ti accoglie e in cui ti muovi in punta di piedi, in ascolto, per non disturbare. So che tu puoi capire quel che provo, questa contraddizione che per me è solo apparente, tra l'andare lontano, visitare luoghi sconosciuti i miei visitati e percorrere tutti i giorni lo stesso sentiero, con lo sguardo curioso di chissà quanto ancora c'è da scoprire e non sa. È il mio sguardo che è lo stesso, l'emozione che provo. Forse questo sguardo è il punto d'unione che tiene assieme quel Fabio dei vent'anni con il Fabio cinquantenne con cui devo ancora entrare in confidenza, specie con questo corpo che arranca e cede quando gioca basket con i ragazzi, ma spero che se sono costante con la corsa non mi mollerà tanto facilmente. E qui mi fermo, ecco, volevo darvi un assaggio di uno dei due personaggi principali, poi ci sono altri personaggi nel romanzo, c'è Silvia, c'è Marco che fanno parte della trama, è uno scrittore misterioso, ma non voglio svelarvi troppo ovviamente per non tolvere il gusto e il piacere a chi avrà voglia di leggere per intero il mio ultimo romanzo. Luisa e Fabio, due periferici in contatto, edizione AAA. Un romanzo che è ambientato in gran parte in Valsassina, Casargo, un paese di 800 metri in provincia di Lecco, un piccolo paese dove ha scelto di vivere Fabio, mentre in parte è ambientato anche in Valcuvia dove vive Luisa che fa la bibliotecaria del suo piccolo paese appunto in Valcuvia. E qui mi fermo augurandovi sempre buone letture e una buona giornata. Ciao a tutti e grazie!